L'Origini dell'Uomo di Lecce in 30 secondi è dedicato all'Assunta, costruito in epoca normana 1114 per iniziativa del vescovo Formoso. Fu ristrutturato al tempo degli Svevi 1230 da parte del vescovo Volturghio. La campana è definitivamente modificato dal vescovo Luigi Pappacoda, in epoca barocca tra il 1659 e il 1670 per opera di Giuseppe Zimbalo. Ma 30 secondi? Chissà.